Questa è la caserta per cui mi candido, la città che viviamo tutti i giorni con i suoi problemi, con le sue difficoltà, con la sua crisi ormai radicata, presente da anni, questa è la città che non vorremmo più vedere così, non vorremmo più vedere con le sue grandi ferite, queste cave che sono alle mie spalle, ho i tanti problemi di mobilità, di viabilità, con i negozi che chiudono, questa è la città che non vorremmo vedere più, vorremmo vedere un'altra città, una città da costruire e ricostruire mentalmente, intorno alla Reggia, grazie alla Reggia, su questo gioiello borbonico che poi è il palazzo dove si è fatta anche la storia dell'Italia repubblicana, intorno a questo costruiremo una nuova città, la nuova caserta, non nuovi palazzi, ma nuove idee per una città che guarda l'Europa. Grazie a tutti!